Forse di qua si esce. Siete circondati. Abbiamo il vostro amico. Preso bellico. Vai con il piano B, Bell. Attiva il gas. Giù le armi e arrendetevi o lui muore. Quando ci muoviamo metti una maschera bellico. Grazie amici miei. Com'è la situazione lassù? Sono in allerta. Isolano il palazzo. Dovremmo aprirci un barco. Con equipaggiamento pesante. So dove trovarlo amico mio. Ci sono armi esatti nell'ascensore. Alla prossima. Dobbiamo armanci prima di avere più le reforze. Non possiamo già mettermi. Alla prossima. Un'altra. 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 Mi serve coperti! Mi serve copertura! Equipaggiamento. Corazze, caschi, mitragliatrici ed esplosivi. Preparati.